bentornato goodyear bentornata continuiamo nella descrizione di windows 10 è ora di parlare della sezione rete ed internet del pannello delle impostazioni in windows 10 cos'è è una sezione che ti permette di gestire ed impostare parametri attinenti alla tua rete e al collegamento internet come accedi dal pulsante start individua l'icona ingranaggio come sempre dalla nuova finestra clicca appunto sul pulsante rete e internet troverai diverse sottosezioni di norma stato ethernet connessione remota vpn consumo dati e proxy c'è da dire che possono variare in base agli aggiornamenti che apporterà la microsoft nel corso degli anni oppure in base al dispositivo su cui è installato windows ad esempio se hai dispositivi portatili come smartphone o tablet dalla sottosezione stato otterrai la situazione della rete qui rappresentata dallo screenshot potrai vedere se sei connesso ed eventuali reti disponibili a cui poterti connettere puoi anche modificare le impostazioni della tua rete andando a gestire le schede appunto della rete potrai vedere la proprietà disabilitarla o abilitarla eseguire una diagnosi se non dovesse funzionare qualcosa ed altre impostazioni inoltre hai la possibilità di impostare le opzioni di condivisione ossia decidere cosa condividere o ancor di più creare un gruppo home per la condivisione di file e dispositivi qualora si verificassero problemi potrai partire da qui per la risoluzione anche con la seconda sottosezione ethernet visioni brevemente le schede installate sul tuo pc e il loro stato di connessione entrando nella proprietà delle singole schede potrai leggere i parametri della stessa come ad esempio l'indirizzo mac univoco del dispositivo il nome dello stesso produttore e versione dei driver installati per quel determinato dispositivo con un cursore potrai decidere se rendere visibile e individuabile il tuo computer nella rete attraverso la sottosezione connessione remota puoi configurare una connessione a distanza che ti potrà tornare utile in alcuni casi di controllo per la gestione di file o la risoluzione di problemi la sottosezione vpn virtual private network ti permette di creare una connessione privata virtuale una procedura guidata ti porterà ad inserire dei parametri della stessa in modo che sfruttandola potrai migliorare la tua sicurezza nella navigazione dovrai ottenere il nome del provider che ti fornirà il servizio vpn scellerà il nome della connessione l'indirizzo del server che impiegherai ed altri parametri tramite dei cursori potrai anche decidere se utilizzarla o no con il traffico dati a consumo oppure roaming quindi attenzione a mantenere attivo se hai la certezza o meno di poter utilizzare il traffico dati a consumo o roaming perché potrai avere dei costi molto elevati la sottosezione consumo dati ti indica il consumo dei dati negli ultimi 30 giorni per le tue connessioni potrai accedere al dettaglio d'uso in modo da poter visionare il consumo per il singolo programma o la singola applicazione nel rispettivo quantitativo di dati consumati infine con il pulsante proxy potrai eseguire delle impostazioni per configurare una navigazione sfruttando dei server proxy per navigare tramite dei punti potrai far rilevare automaticamente i parametri del server se ti connetti ad un proxy o impostarli manualmente nel qual caso dovrai acquisire o ancora utilizzare ad esempio uno script una sequenza di istruzione e programma in maniera automatica per la configurazione della navigazione tramite proxy eccoci in zona pratica andiamo sul pulsante start clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse individua il tasto ingranaggio cliccandoci sopra entriamo nella sezione impostazioni e clicca sul pulsante rete e internet in questa sezione evidenzi lo stato della rete in questo caso come puoi ben vedere in basso a destra non ho una connessione di internet potrei cliccare sul pulsante risoluzioni di problemi per avviare una procedura guidata per individuare eventuali diagnosi ma naturalmente in questo caso io ho forzatamente disattivato la connessione e quindi è inutile eseguire questa procedura cliccando sul pulsante mostra reti disponibili potrai aver individuato da questa sezione le reti disponibili qualora avessi un accesso ad internet via cavo via internet e quindi cliccando sulla singola potrai attivare una connessione gli altri pulsanti di questa sezione ti permettono di modificare le opzioni della scheda quindi cliccando sopra potrai abilitare o disabilitare la scheda ethernet che è installata magari su questo pc o eventualmente relativa ad una connessione dati via wireless o tramite pennetta usb cliccando con il pulsante destro potrai abilitare eseguire la diagnosi creare un collegamento sul desktop o rinominarla ed eventualmente eliminare se non fosse più utile questa connessione o gestire le proprietà nel qual caso entrerà nella zona dedicata della scheda che ti permetterà di individuare alcuni parametri di protocollo e quant'altro chiudiamo questa sezione e torniamo nella sezione didattica della dello stato delle rete con opzioni di condivisione potrai entrare nella zona di condivisione e scegliere cosa condividere se sei connesso ad una rete privata oppure a una rete pubblica o per qualsiasi altra rete quindi potrai decidere il tipo di condivisione che possono essere file o dispositivi all'interno della rete che eventualmente andrai a connetterti anche impostare dei parametri sicurezza per connetterti a questo computer tramite una password potrai anche decidere di attivare il gruppo home ma in questo caso ti rimando alla lezione dedicata in windows 7 perché più o meno parliamo delle stesse informazioni qui altri pulsanti relativi alla visualizzazione della proprietà della rete che in questo caso ti permette di individuare alcuni parametri dedicati delle due schede come l'indirizzo fisico quindi l'indirizzo mac della scheda di rete se attivo o meno i protocolli utilizzati ed eventuali server dns tornando alla sezione impostazioni il pulsante ethernet ti permette di individuare in questo caso come nella situazione precedente non ho una connessione internet quindi anche cliccandoci sopra potrò entrare semplicemente nel dettaglio dei parametri della scheda ethernet cosa che già ho visto in precedenza qui ci sono altri pulsanti correlati a questa sezione ma che verranno anche trattati in taluni casi in seguito oppure già trattati in lezioni precedenti il pulsante connessione remota ti permette di configurare una nuova connessione anche qui già accennato nelle lezioni precedenti senza perderci altro tempo in un copia e incolla annulliamo e ti rimando quindi alla consultazione della lezione relativa il pulsante vpn ti permette di aggiungere una rete vpn ma in questo caso come puoi vedere dovrai avere informazioni relativi al provider che ti fornisce il servizio vpn come il suo nominativo il nome da dare alla connessione eventuale indirizzo del server e come puoi notare informazioni che esulano questa lezione didattica in quanto non è relativa alla creazione di una rete vpn ma che in seguito magari potremmo trattare qui puoi tramite dei cursori selezionare o deselezionare se utilizzare una rete a consumo o il roaming per la connessione vpn quindi state decidere se sfruttare il traffico dati o addirittura il roaming quindi occhio ai costi nel caso attivarsi queste due opportunità per il pulsante consumo dati ai la sezione relativa al dettaglio del traffico dati per gli ultimi 30 giorni nel dettaglio d'uso potrai aver listata la serie di programmi che utilizzano il traffico dati e quindi individuare eventuali problemi di eccessivo consumo di dati andando a limitare quel determinato programma la sezione impostazioni di archiviazione ti rimanda ad una sezione anche qui già trattata in precedenza infine rimane il pulsante proxy che ti permette di configurare in maniera automatica tramite questo cursore una navigazione qualora tu volessi eseguirla tramite proxy o tramite cavo ethernet o wifi oppure se avessi uno script quindi un programma una serie di istruzioni di configurazione automatica potrai attivarlo e individuare l'indirizzo dello script per attivare una navigazione proxy in maniera automatica per la sua configurazione oppure non tenere in considerazione una configurazione automatica ma inserire i dati manualmente qualora tu ne fossi già in possesso al termine o nell'uno o nell'altro caso cliccando sul pulsante salva acquisirai questi parametri e potrai eseguire una navigazione per tutelare la tua privacy e gestirla tramite server proxy ricorda che in questo caso potrai avere un minimo rallentamento della navigazione in quanto passerai per uno o più server proxy bene nella prossima lezione ancora informazioni della sezione impostazioni per windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima ciao